Una nuova organizzazione che riunisce il meglio del Made in Italy agroalimentare, oltre 50 marchi distintivi dell'unicità italiana insieme a Coldiretti in rappresentanza dell'eccellenza agricola. L'occasione è il convegno per il lancio della campagna Io sto con il Made in Italy, organizzato questa mattina alla Camera dall'On. Gallinella, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. L'obiettivo è contrastare senza se e senza ma l'Italian Sounding, che ruba al nostro Paese oltre 300.000 posti di lavoro, anche quando a farlo sono aziende operanti in Italia che omettono lo stabilimento in produzione, in etichetta o dichiarano di fare Made in Italy, producendo all'estero. Non è più possibile separare il prodotto italiano al suo modello e dalle sue radici. Lo dice Luigi Scordamaglia, riassumendo così la filosofia di filiera Italia, di cui è presidente. Un gruppo di quelli che amano questo Paese nel settore agroalimentare, in pratica tra le prime 50 industrie alimentari italiane, tra i marchi più famosi italiani al mondo, insieme alle eccellenze agricole di Coldiretti, insieme per tutelare e valorizzare proprio il Made in Italy. Di chi crede che non esiste un'industria alimentare italiana senza una produzione agricola e non può esistere una produzione agricola senza un'industria capace di valorizzarla al meglio in giro per il mondo. Cosa si potrebbe fare di più per il Made in Italy? Tantissimo, filiera Italia non nasce per rappresentare interessi, nasce per rappresentare valori, ma per incidere concretamente. Si muoverà sul fronte internazionalizzazione, insieme a Lice stiamo organizzando una serie di eventi per promuovere all'estero la filiera. Non siamo soltanto prodotti di eccezionale qualità, siamo storytelling, siamo territori, siamo produzione agricola eccezionale, siamo una storia da raccontare e lo faremo in giro per il mondo, perché così si contrasta l'Italian Sounding molto di più che con le false bandierine o con gli strumenti legali che comunque sono necessari. Ci muoveremo anche con il mondo finanziario, stiamo già studiando degli strumenti ad hoc per la filiera, per il supply chain di singoli settori e aziende, analogamente a quanto la borsa Elita ha appena fatto con Leonardo e con il suo supply chain. Ci muoveremo soprattutto nel contrasto all'Italian Sounding e nella intransigenza assoluta sulla trasparenza in etichetta. L'Italia è il leader nella qualità dei prodotti, deve diventarlo anche nella trasparenza e trainare un'Europa che è recalcitrante, latitante. L'origine della materia prima in etichetta, sempre e comunque la sua successiva valorizzazione, deve rappresentare un punto imprescindibile. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.